I criminali non sono complicati, Alfred. Dobbiamo solo scoprire che cosa vuole. Con tutto il rispetto, signor Wayne, forse questo è un uomo che neanche lei capisce appieno. Molto tempo fa, ero in Birmania con degli amici e lavoravamo per il governo locale. Volevano che comprassimo la fedeltà dei capi tribù cercando di corromperli con delle pietre preziosi. Ma i carri del governo vennero assaliti da un bandito in una foresta a nord di Rancun. Così iniziamo a cercare le pietre. Ma in sei mesi non incontrammo nessuno che avesse fatto affari con lui. Un giorno vedi un bambino che giocava con un rubino che era grande come una pancia. Il bandito le aveva buttate via tutte. E perché le ha rubate? Beh, perché lo trovava un gran divertimento? Perché certi uomini non cercano qualcosa di logico nei soldi. Non si possono né comprare né dominare. Non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo vedere il gocciare in acqua. Dimmi, giochi. Con tutti quei soldi cosa ci compri? Io sono un tipo dai gusti semplici. Mi piacciono la dinamite, la polvere basparla e la benzina. Ma cosa? E sai qual è la cosa che hanno in comune? Costano poco. Hai detto che eri un uomo di parola. Ah, lo sono. Infatti brucio la mia metà. O Dì, questa città merita un criminale di maggior classe. E io sono pronta a darglielo. Di ai tuoi uomini che lavorano per me adesso. Questa città è mia. Non lavoreranno per un mostro. Un mostro. E se adesso io ti taglio a pezzetti e ti do il pasto ai tuoi mastini? Così vediamo quant'è veramente fedele un cane affamato. Non si tratta di soldi. Non si tratta di mandare il messaggio. Tutto brucia. Io non voglio che ci siano dei rancuri fra le due uomini. Quando tu e... Re... Rachel! Rachel, venivate portati via. Io ero seduto in gabbia da gordo. Non ho fatto esplodere io quelle cariche. I tuoi uomini. Un tuo piano. Ti sembro davvero il tipo da fare piani? Lo sai cosa sono? Sono un cane che insiegue le macchine. Non saprei che farvele se le prendessi. Ecco io agisco e basta. La mafia ha dei piani. La polizia ha dei piani. Gordon ha dei piani. Loro sono degli opportunisti. Opportunisti che cercano di controllare i loro piccoli mondi. Io non sono un opportunista. Io cerco di dimostrare agli opportunisti quanto siano patetici. I loro tentativi di controllare le cose. Quindi, quando dico... Vieni qui. Quando dico che con te la tua ragazza non c'era niente di personale, capisci che ti dico la verità. Sono gli opportunisti che ti hanno messo dove sei. Anche tu eri un opportunista. Avevi dei piani. E... Guarda dove ti hanno portato.